Gentili telespettatori, buona giornata. Siamo al Senato, c'è una scolaresca che assiste alla seduta del Senato e c'è un ragazzo del liceo Righi, se non sbaglio, che mima con tutte e due le braccia il gesto della pistola verso Meloni. Quindi intervengono i commessi per rimproverare l'alunno. Voi vi stupite di questo? Adesso ne parleremo. La Meloni poi risponde, dice, cosa mi colpisce da questo gesto? La Meloni è al Senato, le dichiarazioni che precedono il Consiglio dell'Unione Europea, repliche, interventi delle opposizioni, dibattito abbastanza sostenuto, dove la Meloni se la prende con conto, in particolare sulla linea da seguire sull'Ucraina, eccetera. La Meloni ribadisce che il governo funziona, parla dei dati Frontex sugli sbarchi di immigrati, crollati in maniera estremamente drastica. Segno dell'intesa con la Tunisia che funziona, dell'intesa con gli altri paesi, quello con l'Egitto che è stato appena siglato, e poi chissà quante altre intese che noi non conosciamo e non conosceremo mai, ma che stanno funzionando. Si parla di questo in Senato, si parla anche di questo fatto successo dove c'è una scolaresca di un liceo, quindi stiamo parlando di persone grandicelle, non stiamo parlando di bambini di 10 anni, ma stiamo parlando di persone quasi vicino all'età dei 18 anni, alla maturità, come si diceva una volta. Chissà se ancora oggi si parla di maturità, perché maturità realmente, mi sembra che scarseggi un po' in Italia la maturità. Uno studente del liceo Righi, presente al Senato con i suoi compagni, ha infatti mimato il gesto della pistola con le due mani unite nei confronti del Presidente del Consiglio. I commessi sono intervenuti, lo hanno redarguito e interrotto. Poi interviene anche Ignazio Larussa, Presidente dell'Aula, che ha stigmatizzato quanto accaduto. Poi ovviamente i professori, le professoresse, poi lo hanno fatto scusare. Bene. Quella pistola mimata ha parlato nel corso del tuo intervento la stessa Meloni. Dice, ringrazio i colleghi per la solidarietà. Non ho altro da aggiungere se non che mi colpisce che un gesto del genere avvenga nel giorno in cui ricorre l'anniversario dell'omicidio di Marco Biagi. Esprimo vicinanza e solidarietà alla famiglia Biagi, un servitore delle istituzioni e dello Stato che ha pagato con la vita. Poi Meloni ha voluto ricordare il gius lavorista ucciso dalle nuove Brigate Rosse anche su Twitter. Per non ne dimenticare. Dopo i fatti, dal liceo scientifico Righi di Roma è arrivato in Senato una lettera di scusa indirizzata al Presidente del Consiglio, alla Presidente Larussa, al questore anziano Gaetano Nastri, lettera che il Presidente del Senato ha apprezzato, come si apprende da fonti di Palazzo Chigi. Allora, vi ricordate quando Mattarella è intervenuto e disse proprio qualche settimana fa che quando si arriva con i manganelli sui giovani vuol dire che abbiamo fallito. Sì, la società ha fallito. Parliamo un attimo dei manganelli, poi parliamo dello studente col gesto della pistola. Sì, abbiamo fallito come società perché quando ci sono degli studenti, delle studentesse che escono di scuola con lo zainetto e vanno a prendere, pum pum, a calci la polizia, a tentare di sfondare i posti di blocco e a sputare sulla polizia, direi che la società ha fallito, hanno fallito le scuole, hanno fallito i genitori, i genitori che sono impegnati a lavorare tutto il giorno, i figli sono abbandonati a se stessi, crescono da soli, i genitori che tornano a casa la sera alle 8, alle 9, giusto il tempo di mangiare qualcosa veloce e andare a dormire. Quindi la vita familiare praticamente è inesistente. Quindi ragazzi e ragazze abbandonati a se stessi, dove crescono un po' come dei selvaggi, crescono con delle loro idee, con dei loro presupposti, con delle loro opinioni, senza che ci sia qualcuno che gli dice realmente guarda, ti spiego, le cose stanno così, ci si comporta in un certo modo. Non è compito della scuola, la scuola dice mica è compito mio, dover insegnare l'educazione e come si sta nella società. I genitori non ci sono e quindi questa è la società. Abbiamo fallito, una società fallita. Una società fallita. E vi stupite se un ragazzotto in Senato fa un gesto della pistola sulla Presidente del Consiglio? A parte che è anche rischiato, perché immaginatevi se l'avesse fatto con qualche oggetto che poteva sembrare un'arma vera, ha rischiato moltissimo questa persona. Quindi, capite, non ci si stupisce di un gesto così infantile, così immaturo. Certo, non ha ancora i 18 anni probabilmente, quindi ancora ufficialmente un immaturo. Però, io direi alle scuole, lasciate perdere di andare al Senato, state nelle classi a insegnare l'educazione, visto che il livello è questo, insegnate l'educazione, il rispetto, piuttosto che andare lì in Senato così, a sentire la Meloni che litiga con Conte, state in classe e fate una bella lezione sostitutiva, al posto che andare in Senato spieghiamo che cos'è l'educazione, il rispetto, la democrazia, l'autorità, le leggi, il governo, eccetera, eccetera. Beh, naturalmente non c'è da stupirsi un immaturo, ufficialmente, chiudete il Senato, ma cosa fate andare lì le scolaresche? Ma cosa fate andare lì le scolaresche? A cosa serve? A cosa serve? Immaturi lì che non riescono neanche a comprendere quello di cui stanno assistendo e ascoltando. Meglio stare in classe e imparare la grammatica, a parlare e scrivere in italiano, meglio imparare che cosa è successo nella storia, l'educazione, il rispetto. Arrivederci a tutti e grazie.